secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie da cadere iniziali da 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 zasetti stagdano so, perfetto al canale arcadij è stato khusus di giusti правile del gioco potre anche se faccio è molto importante essere un creatore di video e amici con eto perché non importa cosa facciamo eto sempre ti ha giocato Mi 10 deditas! Mi hicieron saltar 4 veces! Aguantate, aguantate! Hijo de la chingada, espérate! Me hicieron saltar 4 veces! Y esto? Hijo de la chingada! Aldo, de verdad, esto es la cúspide de la locura! Dame una dedita más o no pararé! Tú sabes que me estafaste! Bro! No, yo estoy en otro lugar... Ah, tal vez... La cama de la chingada de la chingada de la chingada! Pero sí... Es increíble! Es increíble! Es todo el fin! Es todo el fin! Es todo el fin! Piggy, I'm gonna try getting the mace! Hey! Oh, what the... Oh! Oh, so we're not at day 5 anymore! Oh! Oh! That's unfortunate! I hate my life! Day 0! Ah... 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 Ja... Ist es... Nein! 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 Scheiße! Fuck! Ich hab's gecallt! Ich hab es die ganze Zeit gecallt, Max! Ich hab's dir gesagt! Wir haben es predicted! Ich hab's predicted! Ich hab gesagt, gib die aus... Ich hab vorhin noch... Ich hab noch gesagt, ey, gib die aus, Max! Du verlierst die! Ich hab's never decided... We'll die! w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! I know, but you know... Yeah, goodness You're first trying to bang me from behind I'll deal with it All right, let's go home You see me rolling You're rolling Well, that's right, Minecraft is about this, you know, like you have a task, you have to buy Here you have to buy cows, here you have to buy Oh, no, 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 look Ah, here we go No, 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 no On est sur un event particulier qui dure 3 jours Le principe de cet event, c'est que c'est une mini cité dans la cité Ça veut dire que l'événement, c'est du farm en temps limité Mais avec une map vierge de 0 et avec un modpack C'est-à-dire qu'on a 3 jours pour se stuffer le plus possible Enfin là, on a même un jour, on va dire, c'est aujourd'hui Pour se stuffer le plus possible sur une map vierge con il modpack Acer, per chi non conosce il modpack Acer vous allez voir c'è un modpack qui ajoute una nuova dimension in più di nether e di land che è l'Acer e questa dimension è tutto simplement il cielo quindi tutto a l'ora on va allare in il cielo e c'è una vera dimension qui va essere creata là-haut con dei donjons e il buto oggi è di explorare questa map, questo cielo e i donjons per chi non conosce il modpack è insane e di recuperare il più di stuff possibile perché per fare un nuovo modpack qui 트�à, in più ci sono i poteri allora non ne arriviamo nulla non ne preoccupi, l'ott stuff non perdono ci siamo tornati dopo la fine del live Nanavet ormai è non ne pensavo che viva tutte lei lo ho 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 ho? hai messo che ho 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 ho, ho 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 o ho 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 ho... Doccello stilto Colette? Doccello stilto Orkanius è stato un pezzato cristaline curve di play Dopo il prossimo update, dopo aqua, è il terzo Mi piace quest'acqu назов simplemente Si, portate un gel qui? qui? che i bici? che i bici? 2020 qui? Sì, qui sono i compasi? Sassi! 1 compas! Sassi! 8 compas! Sassi! 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 Sannis! Sassi! Non mi risponio, non mi risponio, a tutti voi, mi aspetta al colo Oh, la scelettone di horse trap, oh mio Dio, la scelettone di underwater Quattro? Che cosa succede? Guarda i riempiti! What? world's best cashier 10 with the 5 gifted no with the 10 gifted appreciate you world's best cashier 10 chat I'm joking dude wait there it is better Minecraft lock in chat lock in I was here at the start I was here chat chat I don't care like if there was if there was ever a dude I would have to kiss it would be Chris Redfield if you press 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 Pочти поймал Uже нажать хотел Эй Вадим Ну ты Вадим Здорово Вадим Сигма Вадим просто Представьте Его лицо Когда он это писал Такая Сигма Я покажу как Вадим Выглядел когда он это писал Вот так сидел Вадим И печатал это Ну типа это сообщение Вот так вот он блять сидел Это Вадим Пишет мне сообщение Нажми Дига, rede doch normal О mein Gott Das war's wichtiger Hype vorbei Ge offline Das war's wichtiger Ge offline Мужчика, ты буссоволи геном Ты буссоволи Согласник Воу What the fuck Дебольшой 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 Sì, è una buona casa